Questo testo di Yannis Rizos racconta, diciamo così, le protagoniste sono sette donne di un'isola greca che salutano il mondo, il loro mondo. Quindi raccontano le storie di un mondo che riguarda un po' tutti noi, un mondo di rapporto con la natura, con la pesca, che in qualche modo sta sparendo, o è sparito, diciamo così. Diciamo che ci siamo sforzati di dare molto spazio al testo, un bellissimo testo che dà alle vecchie e una voce che non riesce spesso a essere data, è quella della saggezza raccolta in quei luoghi del femminile, della domesticità, dove il confronto con la natura e il confronto col mare, quindi con un simbolo molto potente, anche a volte sovrastante. E in questa memoria, in questo sfaldarsi, in questo quasi scomparire, in questo tramonto che è il momento in cui proprio si effettua questa visione, le donne lasciano un deposito, un'eredità di saggezza che ci arricchisce sia come donne che come umani in generale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.